Buongiorno a tutti. Bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in provincia di Belluno, nel comune di Pieve di Cadore, località Pozzale, anzi frazione Pozzale e il nostro obiettivo è raggiungere il rifugio Antelau. Faremo un giro ad anello, quindi partiremo da qui per questo sentiero e poi torneremo per l'altro. Il giro nel complesso dovrebbe essere di 5-6 ore e il rifugio è aperto, perciò ci fermeremo a mangiare a rifugio, a bere anche. E la giornata è stupenda e che dire, meno 5 la temperatura, ma a me non sembra che faccia sto gran freddo. Se non sembra che fa un gran freddo a lei, però c'è meno 5 comunque. Vabbè, andiamo. Andiamo ragazzi, ciao ciao. 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 Dopo mezz'ora abbandoniamo la strada asfaltata e prendiamo questo sentiero. Ecco, volevo dire che abbiamo già messo i lampocini, perché la strada lì era molto ghiacciata. Inoltre, ecco che abbiamo parcheggiato in centro al paese, vicino al Conad, e dopo 200 metri di asfalto in salita, abbiamo trovato il sentiero per iniziare. A mezz'ora dal cammino, abbandoniamo la strada e proseguiamo per il sentiero. Ciao ciao. Ciao. Amici del canale, ecco, dopo un'ora e mezza e circa 500 metri di sveglio, siamo arrivati a Costa Nuglia a 1.540 e ci abbiamo messo un'ora e mezza a arrivare qua. Il sentiero non è difficile, però insomma c'è al suo da fare. Adesso dobbiamo scendere a Forcella Antracisa e dopo, anzi salire a Forcella Antracisa e dopo scendere a Rifugio Antelò. Sentiero sempre 2, 5, 3, proseguiamo. Grazie a tutti. Montanari Montanari 2, 2 ore e un quarto e siamo arrivati a Forcella Antracisa, 1.693. Adesso noi proseguiamo, ci siamo agganzati al 2, 50 e proseguiamo per arrivare a Rifugio Antelò. Comunque 2 ore e un quarto, siamo arrivati qua, c'è un sacco di neve e non è difficile, però ci sono dei punti esposti a stare attenti. Ecco, mi raccomando, i ramponcini e proseguiamo, dai. Amici del canale, eccoci arrivati a Rifugio Antelò, 2 ore e tre quarti, 2 ore e 45 minuti e siamo arrivati. Adesso dai, meritato riposo dal guerriero, mangiamo e viviamo e dopo tornare indietro faremo sentire 2,50 che dovrebbe essere quello più semplice sicuramente, che dovrebbe essere quello che fanno le motoslitte. Lo facciamo e dopo la fine darò le conclusioni per vedere com'è andata. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Amici del canale! Anche oggi il nostro trekking è finito! è stato un bel giro, è molto panoramico, soprattutto il sentiero di ritorno. Abbiamo fatto l'andata al sentiero 2,5,3, facendo però un pezzo dell'alta via numero 5 e il ritorno invece abbiamo fatto un pezzo dell'alta via numero 4 per riuscire a fare un giro d'anello. E devo dire, e devo dire, fra le due è senz'altro molto più panoramico, che per di più è per tutti rispetto alla prima che invece ha alcuni punti in cui bisogna stare un po' più attenti. Abbiamo fatto quasi 14 chilometri e ci abbiamo messo circa cinque ore e ci abbiamo messo circa cinque ore e un quarto a fare tutto il giro. Comunque dai, il giro è stato molto bello. Se vi è piaciuto, come sempre, vi chiedo di mettere un bel like, un pollice in su e se volete avere delle delucidazioni sul percorso mettetelo pure nei commenti. E se vi è piaciuto il video, registratevi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ciao ciao, domenico! Ciao ciao!